Oltre 3.000 stamane per i test d'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. 100 minuti per una prova difficile, il racconto degli studenti. Buongiorno, lo avete sentito in primo piano, ci sono i temi della scuola, perché domani inizierà l'anno scolastico per migliaia di alunni sardi e oggi invece i test universitari a Cagliari e Sassari per l'accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. Hanno partecipato oltre 3.000 studenti. Roberta Mocco. Per che cosa si presenta? Fisioterapia. Siete tanti? Parecchi purtroppo, sì. Però questa è la competizione di oggi, quindi bisogna tenere duro e sbatterci finché non sfondi. Una competizione agguerrita. 2.262 candidati per un totale di 330 posti nei 9 corsi di laurea per le professioni sanitarie istituiti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari. Gli aspiranti iscritti arrivano alla cittadella di Monserrato alle 9 del mattino, due ore prima dell'inizio della prova, prevista per le 11.00. Un test che dura 100 minuti ed è uguale per tutti. Per la scienza infermieristica. E ha studiato tanto? Abbastanza, tutta l'estate più qualche altro mese prima del diploma. Non sei mai pronti, diciamo. Ci può essere sempre una domanda che è fuori dal tuo programma, che non sai rispondere al meglio, diciamo. Con 761 domande per i posti disponibili a Cagliari e nuoro infermieristica è il corso più gettonato. È un titolo di studio molto spendibile, ha una professionalità molto ampia, sia nel pubblico che nel privato. Possono anche, oltre che occupare posti chiaramente in ospedale, anche nelle cliniche private e non che fare l'assistenza a casa, che come sapete in questo momento è un problema abbastanza importante, perché il nostro sistema sanitario non ha un'assistenza sul territorio così ampia, perlomeno non in Sardegna.